Stavo facendo allenamento e subito dopo quando è finito ho corso subito in spogliatoio a controllare il telefono. Ho ricevuto tantissimi messaggi e lì ho capito che mi è arrivata la convocazione e ho parlato subito con i familiari. I primi messaggi ho condiviso con loro. È stata una cosa bellissima per la mia famiglia. Ci ho creduto sotto sotto sempre perché anche parlando con mio zio gli avevo promesso che adesso magari sembra una cosa folle però io gli avevo promesso che io ci andrò in Qatar. Se adesso ci pensi nessuno ce l'ha aspettato però io sotto sotto ci ho creduto sempre.